E bella a tutti, ragazzi, benvenuti a questo video, sono così che andate su cinque e ci siamo torrenti. In un nuovo video, in un spazio, andremo a giocare una partita. Omni ha fatto la vita a cut is more. O mito sul di nuovo video, gugendini. O nomini, chau, grazie. E' un pollo, ragazzi. È un pollo, ragazzi. Oggi sono inscrifftile. E' un pollo, ragazzi. Me cagli. Ha fatto una copia a' un pollo. Ilne, la dislike, rau, chego. Laufamini, Jr. e non bisogna di iscritti ok via la sette questo deck non è che sia migliore però si può lavorare anche se mi fa perdere sempre se si gioca in maniera buona diciamo che non è che ti fa perdere sempre cioè ti fa perdere però quasi tutte le volte se tu lo usi ma vai bene sei esperto non è che ti fa perdere non è che ti fa perdere però magari anche se ti fa perdere sempre le volte mi fa perdere sempre mi non è quello che mi fanno il raga si era bloccato lo devo bloccar mi ha fatto la torre ecco è un botto di partita 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 baule gigante baule gigante che cosa ci riserverà quel baule baule gigante baule gigante è un botto di partita